Buongiorno, sono Edoardo Bosch, direttore commerciale di Enac Hoteles in Italia, catena leader in Italia e uno dei principali gruppi alberghieri in Europa, che siamo presenti in oltre 25 paesi con 400 alberchi nel mondo e in Italia con 53 strutture. Enac Hoteles ha incluso nel suo DNA il rispetto per l'ambiente e il migliorare ogni giorno per la sostenibilità. Abbiamo fatto diverse attività che permettono di continuare questo spirito della sostenibilità, come lavorando all'interno con un prodotto coerente, con dei prodotti a basso impatto ambientale, risparmio energetico, fonti rinnovabili di energia, abbiamo installato più di 4.000 metri quadri di pannelli solari, abbiamo installato riduttori di flusso, utilizzatori di presenza, anche abbiamo creato dei prodotti che permettono di comunicare questo prodotto di sostenibilità anche ai nostri clienti attraverso le comitting o attraverso anche dei certificati che permettono di comunicare questa nostra sostenibilità verso l'ambiente che, ripeto, è parte già del nostro DNA come compagnia. Grazie. Grazie.